tira ma io posso solo tirarla qui non ho neanche niente per magari che ne so manovrarla in qualche modo non voglio fare tira voglio fare spingi oh my god come cacchio si fa no basta allora vediamo se io faccio spingi maniglia oh ha fatto ok allora facciamo uno due tre spingi lo facciamo tira uno due tre e cos'era era un due tre giù un due tre oh si prendi la nota alleluia vai possiamo prendere la barca mannaggia che cos'è un casino quella la cassaforte non per altro si chiama cassaforte vediamo se possiamo andare a dirubare eh no quando c'è il tizio vuol dire che non posso andare mi dirà ehi no tu non puoi entrare tu sei un fapper e allora cos'è questo razzismo cos'è sta mafia contro i fapper no guarda io mi farò sentire io sono sindaca il sindacalista dei fapper eh cosa hai capito no 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 ok andiamo da stan stan vero stan ok ok perchè non ci posso entrare qui? mi necessarebbe entrarci ah giusto questo è il molo che ne sa che ne sa eeeh stun è qui ok quali nari prendiamo intanto quanto dura cioè quanto quanti soldi mi danno ah eeeh great to see you again non è che un si certo no non ti hanno preso nemmeno uno io voglio quella in fondo quella blu quella di kingy è troppo da rente voglio quella economica questa sarebbe impossibile no quella piscina si si ah hai ragione non mi piace quella con i bikini invece quella lì sembra tipo un motoscafo mi piace non mi piace non mi piace ma non mi piace 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 anti-nebbia anti nebbia non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace eeeh non mi piace eh c'è un no chi se ne frega? mi sono pedito di parlare di option no 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 non voglio non voglio questo è sicuro ovviamente mutinia è una parola ma aspettate c'è più! ti parlavi del tacometro? che mi salve? basta ecco 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 I guess we can start out at the bottom, I got all day. I'm gonna be getting a whole new shipment next week, so you got me over a barrel. I've got to sell this baby, even if it means losing my shirt. Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today for just 8,650 pieces of eight. How does that sound to you? Forget it. I don't need this boat anyway. Forse abbiamo un giorno di più soldi. Now, wait a second. Don't go away mad. I'm sure we can work something out. Well, maybe you're right. Of course I am. Now, where will we? Oh, yeah. Just tell me, what would it take to get you to sail this ship away today? I'd like to make you an offer. Uh-huh. 3,000. Sempre 3,000. How much? 3,000. Does 3,000 sound any better now? That's still not enough money. Hey, inflation works in the other direction, you know? No. You realize, don't you, that they just don't make them like this anymore? You se ne frega? Forget it. I don't need this boat anyway. Vediamo se ci ferma di nuovo. No, wait a second. Ah, lo vedi? Don't go away mad. I'm sure we can work something out. Uh-huh. Well, maybe you're right. Of course I am. Now, where were we? Oh, yeah! 3,000. 3,000. You can tell me the truth. It's the little woman, isn't it? You're afraid of what she'll say when you come home with a new ship. Don't be such a wimp. Stand up to her. She'll respect you for it. And when she sees the ship, she'll love you for it. Trust me. I don't trust you, believe me. When I say that I don't trust you. I'd like to make you an offer. 3,000. Great. Forse 4,000. Ma quanto ne abbiamo di soldi? Vabbè, facciamo 3,000. But still, not enough money. Inflation works in the other direction, you know? I don't understand. I thought you were interested in this ship. I'd like to make you an offer. Great. How much? 4,000. Okay, okay. 4,000 pieces of eight. That's a little bit more like it. But not much. I know you can try harder than that. I'd let you take it out for a little spin around the harbor, but our insurance company won't let us. I'd like to make you an offer. 5,000. Great. How much? All right. 5,000. But that's my final offer. 5,000 pieces of eight. Okay, okay. Alleluia. It's killing me, but okay. Okay. And I thought I was gonna give my children Christmas presents this year. Oh my, I want to tell I, yeah. Just take it out of here. I'm glad to get rid of it. Oh, yeah. Do you have that note from the storekeeper on you? Thanks. I've got to run these numbers by my boss. He'll think I'm nuts, but I'll talk him into it. You meet me at the dock with your crew. I'll bring the ship and the papers. I just want to say that I really feel like we got to know each other today. I mean, I really felt some bonding here. And I don't just say that to everybody. It's been great doing business with you. Really? Sucker. See you at the dock and don't forget your crew. All three of them. I've said that there are three. Sapper. I don't know, I don't know. I want to spend $3,000. It's a symbolical number. I've spent $5,000. I've spent $5,000. I've spent $5,000. I've spent $3,000 in this queue. It's $3,000. I've spent $4,000 in this queue. You know. But I said no way. I know a guy who's in love with this ship and it would break his heart to lose it. Am I right? Yeah. Of course I am. Ah... I mean just look at her. Non è quella che ho ordinato io Non è quella che ho ordinato io Basta Sei scemo? Che feina, foste tuo amore Ho quasi forgot to give you this free seafaring literature My gift to you, just remember where you got it Stands Maybe I should have gotten that extended warranty after all Hey, long time no sea Ah, yeah Ok Have you come to be on my crew? Eh? Hey, I could never pass up a chance to make some easy money Money? What is money? Money? Yeah, we are getting paid for this, right? Of course What is money? I'm glad you could make it, Carla Look, don't start with me, ok? So what's that waterlogged wreck doing out there? Ehm, it's another boat How are we gonna get our ship in here with that pile of scrap in the way? Ehm Where's the cabin boy? I'll need him to go back to my place and pick up my bags What's going on here? Ehm Where's our ship? Where's our crew? This isn't gonna be as easy as I thought Eh Cos'è? Il viaggio Bello Bella Through the courageous leadership of Captain Threepwood The Sea Monkey is finally underway Grazie Undaunted by their lack of navigational equipment or expertise The crew begins to plan their voyage Interessante Eh First of all I'd like to say it's great to be working with such a fine crew Mmhm The voyage ahead is not going to be easy Eh It's going to take skill, endurance and most of all Teamwork First I thought we'd assign some duties What is it we were suckered into doing again? Eh I made a list Hmm La lista della spesa Is right Infortata I don't see what the big deal is we rescue the governor She can clearly take care of herself The way I look at it We got this great ship Where? Eh We got a ship Why don't we kick back Tie a rope to the wheel and cruise for a while Eh I don't care about it Come to think of it I have been a little stressed out lately I could use a rest Then it's decided Rest We cruise the Caribbean Uh I'm doomed Uh Ok It looks like a ballpoint feather pen Lo prendo L'ho presa It's made Let's be dealer prep Apri Apri le baule It looks like an empty chest Strafiga sta colonna sonora Mi piace Possiamo salire? Si possiamo salire Ma non ha senso Ciurma amutinata E non possiamo camminare Bene Questo è esplorare la nave Nella cambucia della nave Bocca porto Bocca porto Bocca porto Bocca porto Come ci entro lì? Ah ok ok Non so come ma ci sono entrato Pentola Vai Prendi tutto vai Ok 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 bene Sbaglio ho visto un Aprire C'è un vino molto buono Mmm Grande Aprire il barilotto Non so se mi convenga C'è un nxtxtxtxt Wow Gunpowder Oh figo L'hai preso? They look like kegs of gunpowder Mmm I've got enough gunpowder For now Ah l'hai presa? Cambusa Quella cacchio è la cambusa? Non è quella la cambusa? Non c'è qualcosa di speciale Abbабbo Eh scusate mi interrompono sempre Allora qua miifiedi salire Ok Nella cambusa. Scala di corda. Posso usarla? Oh, posso usarla? Eeeh. Ma nella cambusa. Posso prenderla? Ficata! Ho una bandiera. E tu no. Cambusa della nave. Eh, la cambusa è qui sotto, però. Qui c'era la... Ok, ho capito. Ah, ci sono dei bauli. E' un grande pezzo di fune. E' un pezzo di fune enorme. Prendila. Qual è la cambusa della nave? Non andare su Wikipedia cos'è la cambusa? Condemonio. Cambusa. Sarà questa. Sarà questa e non sono capace di far fare. Aprire. Si possono aprire i cassetti, visto? Posso guardarlo? Certo. Certo. Livro colgaroso. No. Verso l'inchiostro. Posso prendere l'inchiostro? Ah, posso prendere anche l'inchiostro. Ok. Ok. Posso andare in giro? Posso usare il letto del capitano? Ok. Ok. Oh, posso aprirlo. Ok, è chiuso. Interessante. Ma qual'è la cambusa? Non mi dà altri consigli, di solito me ne dà altri. Credenza. Guarda, guarda che cos'è. Ah, io odio quando si attacca al palato. Posso prendere un'altra? Non posso prenderlo. Possiamo combinare qualcosa, tipo faccio usa, questo e questo. Ah, però potremmo in futuro. Aprire. La scatola di cereali! Se sta mangiando Epico, allora me ne prendo un'altra ora. Sì, arrivo. Cos'è che ha detto? Vabbè, io me ne prendo un'altra. Cos'è questo? La chiave, la chiave, la chiave per la... Fafafap, giusto? Usa, chiave. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero, non è vero. È vero, non è vero, con le giuste di giuste. Su aio? Sì. È vero. È vero. È vero. Sì. Posso guardare il pezzo di carta? Cosa cacchio devo fare? Bastocino di cannella Vabbè ce l'abbiamo Andiamo a metterlo nel pentolone Facciamo control Dare questo Usa Ecco ora Foglie di menta Le mentine Ah allora è giusto io le mentine Poi abbiamo bisogno di Hai qualcosa di simile a un teschio umano pressato Oh Oh Fugge L'inchiostro di seppia Si Ok Sangue di scimmia Eh il vino Minchia è culo Poi Un pollo vivo Vabbè non lo ingalliamo Abbiamo un pollo morto no? Non abbiamo un pollo morto Ah eccolo Lo zolfo Povero sparo Mi C'ho tutto Cosa tu mi serve? Additivi alimentari Prodotti chimici E additivi Alimentari Beh i cereali Oppure Oppure Brasciore no Ah ecco ecco Eccolo 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 Ok 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 Ok, perchè ora salveremo, siamo al 45% di gioco, c'è il percentuale complicato, bene, ci vediamo tra poco, dobbiamo andare a cena, e eccomi, allora, si, si, siamo arrivati a Monkey Island, ah, ok. Ok, forse dobbiamo parlare con, parla. Ehi, guarda, siamo arrivati a Monkey Island. Cos'è? Ah, grazie. Usare quella fune come miccia per il cannone, ah, ok, allora, usa, corda, cannone, poi ci metto anche la cosa, no, aspetta, povera sparo, non ne ho più. Ah, quindi posso fare, dovrei spararmi, non è che mi piaccia come idea, sai, dovresti entrarci. Ma non c'è qualcosa di speciale? Deja vu, deja vu, deja vu, deja vu. Ma non c'è qualcosa di speciale? Aprile? Non sembra che abriva. Non sembra che abriva. Non posso andare. Non posso andare. Non posso prendere. È molto più pericoloso di ascoltare lì per nessuna razza. Non mi devo sparare. Ah, giusto, devo andare a riprendere la prova e la sparo, dunque. Andiamo al baccaporto. Boccaporto, non baccaporto, cos'è, Pokémon. Si sembra come keg di punta. Eh. Si sembra come keg di punta. apri ok bene e ora facciamo ah giusto mettiamo nell'ugello si chiama ugello? si un modo per accendere la miccia un modo per accendere la miccia